Interni eleganti realizzati con materiali pregiati e di qualità. Consumi bassi e ridotte emissioni di CO2 che rendono quest'auto il top per il rispetto dell'ambiente. Ecco a voi la nuova Citroen C3. L'utilitaria di casa Citroen si distingue per eleganza, originalità e un pizzico di grinta. Grazie alle dimensioni esterne generose in lunghezza e larghezza, la nuova Citroen C3 offre un'abilitabilità elevata e un adeguato bagagliaio. Gli interni eleganti e ricercati sono realizzati con materiali al di sopra della media della categoria. Il motore 1.4 HDI da 90 CV, grazie a un'accurata ricerca e un innovativo filtro antiparticolato, vanta una riduzione notevole di emissioni, unica per questa categoria. La gamma si basa su tre motori a benzina, dal tranquillo 1.100 da 60 CV al 1.400 da 73 CV. Per chi desidera un pizzico di aggressività, può optare per il 1.4 HDI a fasatura variabile da 95 CV. Sono previste anche versioni B-Fuel. Anche per i diesel, le motorizzazioni previste sono tre. Tutte sovralimentate. Un 1.4 HDI da 68 CV, con dispositivo start and stop, che vanta consumi da 25 km al litro. Infine, il 1.6 HDI da 92 CV o 111 CV. Infine, il 1.6 HDI da 60 CV.